Lisa Gerardini, ossia la Gioconda. Lisa Gerardini è la Gioconda. Il punto è, la Gioconda è la donna raffigurata nel quadro, la Gioconda di Leonardo da Vinci. La Gioconda, appunto il nome del quadro riconosciuto in tutto il mondo, sia il nome che la figura del quadro, appunto è la Gioconda, perché si è sempre pensato che il quadro fosse stato la rappresentazione, il ritratto appunto di Lisa Gerardini, che era moglie del Giocondo, di Francesco del Giocondo, da cui il nome è la Gioconda. Ora, ultimamente, specialmente negli ultimi anni, si parla tantissimo della possibilità che la donna raffigurata in quel quadro non sia Lisa Gerardini, non sia la Gioconda, ma sia Pacifica Brandani da Orbino, che era stata amante di Giuliano dei Medici. Andiamo con ordine, andiamo con ordine. Non si sa, effettivamente non si sa, si è sempre creduto che appunto il quadro fosse quello di Lisa Gerardini, quindi appunto di questa donna di cui andremo a parlare, perché Leonardo da Vinci sicuramente fece il ritratto di Lisa Gerardini. Leonardo da Vinci sicuramente fece il ritratto della Gioconda. Però adesso c'è questa nuova teoria che magari quel ritratto che vediamo a Louvre non è il ritratto della Gioconda, ma è il ritratto appunto di Pacifica Brandani. Io personalmente non lo credo, per un semplice fatto, c'è una copia del quadro, la copia della Gioconda che ha il Prado. Se andate a vedere, se andate appunto a vedere i due quadri, sono simili perché fu fatto nello stesso momento in cui fu fatto la Gioconda. Praticamente quando Leonardo da Vinci faceva il ritratto, dipingeva il ritratto della Gioconda, uno dei due suoi più illustri allievi, Andrea Salaio e Francesco Melzi, uno dei due, dipingeva una copia ed era una cosa comune. Il maestro dipingeva e gli allievi dipingevano dietro il maestro. E in effetti sia la Gioconda che la copia della Gioconda, se li vedete, sono simili, ma non uguali. È bellissimo vedere questi due quadri perché ti danno ancora di più l'aspetto di quello che poteva essere la Gioconda di Lisa Gerardini, perché prendiamo noi per scontato che quel quadro è di Lisa Gerardini. Perché io credo che sia di Lisa Gerardini e non di Pacifica Brandani? Per un semplice motivo, appunto per questa copia. Fare questa copia vuol dire che a un certo momento la donna era lì in posizione da ritratto con Leonardo da Vinci che faceva, appunto, dipingeva il quadro e con il suo allievo dietro di lui che dipingeva il quadro. Per fare quello eventualmente quello della Pacifica Brandani sarebbe stato tutto molto difficile perché non è neanche detto che in quel momento i due allievi erano col maestro, mentre a Firenze erano sempre col maestro. Ecco, quindi la presenza della copia dà molto più valore al fatto che quel quadro sia appunto della Gioconda. Ma chi era? Lisa Gerardini. Abbiamo parlato del quadro e dopo ovviamente ci ritorniamo, perché quel quadro è il quadro più famoso di tutti i tempi, quindi ovviamente ci ritorneremo. Ma togliamo la donna, togliamo proprio l'essere umano dal quadro, togliamolo fuori dal quadro e andiamo a vedere un attimo chi era, la bellissima storia appunto di Lisa Gerardini. Innanzitutto i Gerardini erano una famiglia toscana, fra cui erano fra i fondatori della Repubblica di Firenze, che erano famosissimi nei secoli, nei secoli famosissimi per essere testardi, duri, pugnaci, forti, talmente forti che addirittura uno di loro, un Cecè Gerardini, era così, erano loro guelfi, praticamente non voleva fare la guerra contro Siena, contro i Ghibellini, allora andava contro il proprio governo. Gli dietro la prima multa, la seconda multa, la terza, la quarta, la quinta, ha perso un sacco di soldi ma lui testardo, rimaneva nella sua idea, fin quando gli dissero guarda che non c'è più multa, alla prossima che dice ancora che non vuole andare in guerra, eccetera, eccetera, c'è il taglio della testa. Ovviamente a quel punto lui si ritrae, si ritrae però va a combattere, perché erano testardi? Però erano fiorentini, prima di tutto erano fiorentini, dopo a un certo punto erano guelfi bianchi, furono scacciati, esiliati, i civici erano tantissimi in quel periodo a Firenze, furono esiliati e i Gerardini vanno a Verona, vanno nel Veneto e da lì, anche ora adesso ci sono i conti Gerardini, la dinastia continua, perché erano anche uomini di famiglia, facevano tanti figli praticamente. La famiglia Gerardini viene esiliata, ma una piccola frange, un ramo molto minore dei Gerardini rimane a Firenze, sono ricchi, sono benestanti, nessuno li va a disturbare perché non appartengono al ramo principale dei Gerardini, appartengono al ramo secondario e uno dei capi di questo ramo secondario è Antonio Maria Gerardini, il padre di donna Lisa, il quale si sposa tre volte, si sposa tre volte e la terza volta si sposa con Lucrezia dei Caccia e da Lucrezia, da questa unione con Lucrezia nasce Lisa. Nasce Lisa, nasceranno altri sei bambini, tre maschietti e tre femminucci che saranno le tre sorelle, i tre fratelli di Lisa. Lui si era sposato anche in secondo nozze con Caterina e Ruccellai, ci arriveremo anche a questo. Hanno una, praticamente loro hanno diversi poderi, diverse aziende agricole, un mercante di vini, un mercante di oli, un mercante di, anche di pastorizia, diciamo di animali, è abbastanza benestante il padre dei Gerardini, non sono ricchissimi, ma è una famiglia che hanno le loro case eccetera eccetera. A proposito di casa, loro hanno una casa, una bella palazzina, una bella palazzina a Firenze, che cade un po' giù, non la riescono a ristrutturare, quindi si devono muovere. Allora il padre con la famiglia va in giro, prende un'altra casa, questa casa non va bene, un po' strattina, ne prendono una più grandetta, vicino alla Basilica di Santa Croce, e il loro vicino di casa è Piero Da Vinci, il padre di Leonardo Da Vinci, quindi il loro vicino di casa è il notario Piero Da Vinci. Questa è un po' la storia fino a a un certo punto, fino a quando succede che muore, muore il padre Antonio Maria, muore e quindi lascia la famiglia un po' scoperta, anzi scopertissima, a tal punto che i figli vengono sparsi un po' in giro, perché bisogna dare una casa a questi putti, a questi ragazzini. Ora Lisa era già abbastanza grandetta, viene mandata da Mariotto Ruccellai, che era il padre della seconda moglie del padre appunto di Lisa, che fungeva un po' da nonno materno. Questo Mariotto Ruccellai, che era molto addentro con i medici, era molto vicino ai medici, era diventato addirittura gonfaloniere, questo Mariotto Ruccellai prende appunto Lisa con sé, con la sua famiglia, quasi a servizio, era una delle ragazzine perché aveva 14 anni, Giuliano De Medici vede Lisa, se ne innamora e praticamente la riesce ad avere, si dice che la mette incinta. Si dice che la mette incinta, allora sia i medici e sia i Ruccellai che non vogliono questo scandalo in casa, in 448 devono trovare un marito per la Lisa e trovano Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, lo chiameremo adesso Francesco del Giocondo, che a quell'età, a quel tempo, quando Lisa aveva 15 anni, lui ne aveva 29 ed era stato già sposato due volte con due mogli che erano morte, in quei tempi la mortalità era davvero altissima, quindi era normale, e lui decide appunto di sposare Lisa perché dicono, senti, ti ci vuole una donna che ti governa la casa, tu hai già un bambino, non puoi pensare a tutto tu, lui era un mercato di vestiti, di seta, tu viaggi spesso, ti ci vuole una donna che ti devi sposare, insomma, e lui vede la Lisa e si innamora, nel frattempo Giuliano era stato esiliato, ma non dalla famiglia, ma per questioni politiche, quindi tutto è aperto per questo matrimonio, è un matrimonio di interessi all'inizio, allora il Ruccellai dice, senti, come dote la ragazza ti porta 170 fiorini più una bella cascina nel Chianti, venite lì, andate, state un po' lì fra di voi, fate questi primi anni, la luna di miele, fate lì, questa cascina del Chianti praticamente dopo un po' di tempo ci sarà un'altra persona che comprerà la cascina accanto alla cascina del Chianti e questa persona sarà Michelangelo Buonarotti, comprerà appunto la cascina che era quella vicina, quella di Lisa e di Francesco del Giocondo, Lisa e Francesco, incredibilmente, o meno, non lo so, questo matrimonio va benissimo, va benissimo, stanno insieme, hanno cinque figli, dopo il terzo figlio decidono di tornare a Firenze, lui è diventato ricco, sta facendo davvero bene il suo lavoro, inoltre si è addentrato e anche lui fa parte della corte dei medici, erano tutti quelli appunto molto vicini, erano i clientes dei medici, molto vicini ai medici, decidono di ritornare a Firenze e comprono una casa in Via della Stufa. Per festeggiare questo acquisto della casa di Via della Stufa e il fatto che comunque Lisa si sta comportando benissimo, sta sfornando figli su figli, è una moglie molto fedele, si chiama Leonardo da Vinci e si dice Leonardo per favore puoi fare un ritratto di mia moglie? Stanno bene, in quel momento arrivano tanti soldi e allora Leonardo dice va bene facciamo questo ritratto di Lisa e da lì appunto c'è la Gioconda, il ritratto di Lisa del Giocondo, ossia la Gioconda. Fa questo ritratto Leonardo ma Leonardo non riesce a finire, ma del ritratto ne parlerò a brevissimo adesso. Continuiamo con Lisa, si fanno questo ritratto, il ritratto dopo nessuno se l'aspettava ma il ritratto diventa il ritratto più famoso e lei diventa la donna, il viso di donna più famoso di tutti i tempi, praticamente lei non sa nulla di questo. Sforna ha altri due figli, quindi i figli sono cinque, fra di cui Ludovica e Marietta che diventano tutte e due suore. Le ragazze vogliono farsi suore, non interessa la dote, non interessa sposarsi, vogliono farsi suore. Il Francesco Gioconda è una brava persona, una bellissima persona, entra fra i dodici buonuomini di Firenze, diventa la priore di Firenze, è tutta tranquilla, la vita di Lisa Gerardini da quel momento e dal tumulto dell'amore con Giuliano De Medici diventa invece proprio piatta, tranquilla, serena, così come la si vede quasi nel quadro di una madre di famiglia che però ha tanto dentro da raccontare ma non racconta. Questo è quello, il quadro idilliaco che ci racconta la storia ma soprattutto ci racconta un testamento. Il testamento che è firmato da Piero Da Vinci, il padre di Leonardo Da Vinci, firma il testamento appunto di Francesco del Giocondo. Francesco del Giocondo sa che sta morendo, è già grande, è anzianissimo, 70 anni, nei tempi eri davvero un'età incredibile, sa che prima o poi sta per morire, vuole fare questo testamento e nel testamento lui vuole scrivere il fatto che la sua moglie è stata una moglie fedelissima, ingenua si diceva, per dire fedelissima si diceva ingenua, una moglie ingenua e lascia molto alla moglie, lascia molto alla moglie, una cosa abbastanza, non lascia solo ai figli ma lascia molto alla moglie, segno che l'aveva davvero amata Lisa, davvero l'ha davvero amata. Dopo poco tempo, quattro anni dopo muore, muore la nostra protagonista, muore Lisa di Anton Maria dei Gerardini, Lisa Gerardini, muore praticamente la figlia, prima di morire, Ludovica, che è una suora, è abbastanza grande anche Ludovica adesso, prende la madre, sa che sta morendo e dice guarda ti porto al monastero di Sant'Orsola, almeno invece di stare qui sarei più curata, ceplare, tentano di salvare la madre, ma la madre sta morendo e la madre morirà appunto nel monastero di Sant'Orsola dove tuttora ancora, in questi giorni, si cerca proprio la sua tomba. Questa è la storia di Lisa Gerardini, proprio la storia della Gioconda, di Francesco del Giocondo, di Leonardo Da Vinci, di Piero Da Vinci, di Giuliano De Medici, di quella storia lì. Il quadro, il quadro non fu mai finito. Questo Antonio Vasari, che è uno storico, lui lo disse ai tempi, guardate che praticamente per storie, che non vi sto a raccontare a Leonardo Da Vinci, quel quadro non lo finì mai, quindi non lo consegnò mai, non fu mai dato alla famiglia del Giocondo. quel quadro lo fu iniziato, ma non fu finito. Cosa faceva? Allora, praticamente, Leonardo Da Vinci andò in Francia, andò alla corte di Francesco, praticamente, e Francesco, primo re di Francia, acquistò quel quadro, acquistò quel quadro, rimase in Francia, c'è tutta una storia particolarissima del quadro, ma restiamo ai tempi di Leonardo Da Vinci. Leonardo Da Vinci a un certo punto, lui portava con sé sempre tre, quattro quadri, quello a cui teneva di più. E una volta questi quadri li fece vedere, li fece vedere a dei commentatori, degli abbati, che dopo diventarono commentatori, che dissero, era un quadro, era questo, un quadro, era questo, e un quadro era di una donna fiorentina. E questo fu il primo indizio. Il secondo indizio, però, allora, adesso ci arriviamo, loro dissero, guardate che questo quadro è di una dama fiorentina, quindi poteva essere solo la Lisa Gerardini, però se fosse stato invece di Pacifica Brandani, che era la donna di Urbino, che era la donna di Giuliano De Medici, loro, questi abbati, che era un abbate belga, avrebbe potuto benissimo confondersi, perché Giuliano De Medici era fiorentino, Pacifica era la sua amante, e quello avrebbe potuto dire sì, è l'altro quadro di una donna fiorentina. Questo è un altro dei misteri su chi è la donna dietro quel quadro. Noi l'abbiamo presa, Lisa Gerardini l'abbiamo tirata fuori dal quadro, adesso la dobbiamo rimettere dentro il quadro, dobbiamo parlare appunto del quadro. Questo è uno dei, diciamo, degli indizi. C'è un altro, nel 2005 c'è un rettore di una biblioteca, sta dando una ripulita, non ne può più, sono tutte carte vecchissime, vuole dare un ordine a queste carte vecchissime che ha, e incomincia a leggere tutte queste cose di archivio abbastanza, anche pedanti, abbastanza noiose, fino a quando legge una, c'è una missiva da parte dell'ambasciatore fiorentino, di un caricato da fare fiorentino, che manda questa ambasciata a Firenze, e dice, sapete, è passato qua Leonardo, aveva il quadro di Lisa del Giocondo, la Gioconda, aveva con sé il quadro di Lisa del Giocondo, e questa è la Gioconda. E questo è a favore di Lisa Gerardini come quadro, però ripeto, fino a qualche anno fa era molto più sicura, ed ha dato questa nota, questa nota, che il fatto che lui avesse con sé il quadro di Lisa del Giocondo e che lo doveva finire, era a favore di Lisa Gerardini. Adesso sta uscendo fuori questa nuova teoria, che invece il quadro fu commissionato da Giuliano De Medici, sempre Giuliano De Medici, che addirittura, questo ve la devo dire, il quadro che si disse che Lisa Gerardini era andata in via della stufa, aveva una nuova casa, il marito contento, voleva fare il quadro, si disse che non era vera con la storia, si disse che la storia era che Giuliano De Medici voleva avere una foto, una foto, quindi un quadro, di Lisa Gerardini. Va bene, però il vero grande amore di Giuliano De Medici era stata Pacifica Brandani di Urbino, e siccome avevano avuto un figlio illegittimo per dare questa appunto l'immagine della madre, fece, commissionò questo quadro. Comunque sia questa storia, Giuliano De Medici ebbe questo quadro, si dice storia, leggenda, che ebbe questo quadro che vediamo, solo che quando si sposò con Filiberta di Savoia, la moglie disse, no bello mio, questa qua era la donna con cui sei stato, lo sanno tutti, questo quadro deve ritornare indietro. Lui lo prende e lo ridà a Leonardo da Vinci, che se lo tira indietro fino a quando va in Francia, lo lascia a Francesco I, dopo finirà nella camera da letto di Napoleone Bonaparte per tanto tempo, verrà rubato da un italiano che lo metterà in cucina per tre anni, lui praticamente entrava in cucina e guardava ossessionato da questo quadro. C'è tutta una storia che non è questo il motivo di questo video, il motivo di questo video era appunto di raccontarvi la storia particolare di Lisa Gerardini, di chi era, di che era la sua famiglia, di che tempi erano e di che situazione erano. Una donna che all'inizio fu amata da Giuliano De Medici, fu probabilmente anche ingravidata da Giuliano De Medici, ma che dopo col tempo, con un nuovo uomo e con una vita in campagna, diventò una donna felicissima, tranquillissima, ma questa donna con questo sorriso particolare, enigmatico, strano, bello, che non si capisce, è rimasta proprio nella mente, nella mente di tutti noi, di tutto il mondo, praticamente la metà della popolazione mondiale conosce questo viso, conosce il viso di Lisa Gerardini. Ciao ciao!